Poche luci e tante, tantissime ombre. Il ritrovamento di un cadavere ha sconvolto la mattinata a Chiaia, quartiere bene di Napoli. Poche finora le certezze, molti dubbi nella ricostruzione dei poliziotti intervenuti sul luogo, in via Cuoco, dopo la segnalazione. Il corpo dell'uomo sarebbe rimasto in questa intercapedine per circa tre giorni, senza che nessuno se ne accorgesse. Uno spazio di poco più di un metro, in cui è probabilmente precipitata la vittima. Una scena raccapricciante si presentava ai passanti, che si affacciavano incuriositi dal via vai di Forze dell'Ordine. Un corpo abbandonato, contorto, senza scarpe. Secondo quanto si vocifera nel quartiere, il cadavere potrebbe essere quello di un cittadino est-europeo, un personaggio conosciuto nella zona, che chiedeva alle lemosine qualche sigaretta all'esterno della chiesa in piazza San Pasquale, e di cui si erano perse le tracce già di sabato. Se lui, perché vedo da sopra il muretto, che non è riconoscibile perché sta giù per terra, era un uomo forse ucraino, che si dinnome Paolo forse, che chiedeva sempre la carità con un secchiellino davanti alla chiesa di San Pasquale. E io avevo l'abitudine di darci questo, ma da qualche giorno non si vedeva, quindi è probabile purtroppo che sia capitato a lui. Da quanti giorni è che non si vedeva? Era uno che aveva la fama di bere, quindi da due o tre giorni. Sì, stava sempre, se si presume che è lui, stava sempre in mezzo alla piazza, seduto in mezzo alla piazza. Quello là che cercava le sigarette, andava giù al GS e comprasse il vino, se si presume che è lui però. L'uomo, se dovesse essere confermata la sua identità, era noto per i suoi problemi con l'alcol. Proprio in questo verso si concentrano le ricostruzioni degli investigatori, che suppongono, pur senza tralasciare altre ipotesi, possa essersi trattato di un dramma accidentale. La vittima potrebbe aver esagerato con il vino e, seduto su questo muretto, potrebbe aver perso l'equilibrio, cadendo all'indietro e sbattendo fatalmente la testa.